Ciao ragazzi, sono Romano Reggiani, lavoro come attore per cinema e televisione, sono amico da Andrea Valente e ho una casa in alto piano, precisamente a Canove. Mi hanno detto di questa bellissima iniziativa, quindi ci tengo a farvi un video perché vi sono vicino e soprattutto anch'io resto a casa, in questo momento sono a Bologna. Teniamo duro perché sono convinto che questo momento passerà se ci impegniamo tutti insieme e dopo ci sarà un boom. Mi auguro che ci renderà tutti felici, quindi teniamo duro. Vi canto una canzone di Bob Dylan perché Bob Dylan ha sempre qualcosa da dire anche nel 2020. Vi abbraccio, ciao ciao. Oggi vi canto un pezzo che si chiama Make You Feel My Love ed è secondo me una delle più belle canzoni d'amore mai scritte e vale sempre la pena ascoltare e riflettere questo test anche perché in questo momento di sicuro siamo a casa, mi auguro con qualcuno che ci vuole bene. mi auguro con Kezo diplese a cura anche qualche鉗icierre. Ma Little Buon Me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti